Tre assoluzioni, uno sconto di pena per Samuele Landi e numerose conferme delle condanne di primo grado. Si è concluso così il processo d'appello per il Cracchio Telia, l'ex gigante delle telecomunicazioni italiane che aveva base ad Arezzo. In tutto otto gli imputati che avevano impugnato le condanne messe in primo grado dal Tribunale di Arezzo, ossia nove anni per Samuele Landi, l'ex amministratore delegato dell'azienda retina latitante a Dubai, 5 anni per Isacco Landi, 4 anni e 8 mesi per Walter Giacomini, 4 anni per Giuseppe Maranghi, Roberto Rondoni e Maurizio Bartolomei Corsi, 2 anni e 8 mesi per Andrea Iorio, scomparso invece lo scorso novembre uno dei condannati in primo grado, Angelo Landi. Adesso per tre degli imputati la sentenza è stata ribaltata, si tratta dei commercialisti Roberto Rondoni e Maurizio Bartolomei Corsi, difesi dall'avvocato Luca Fanfani e per Giuseppe Maranghi, difeso invece dall'avvocato Antonio Bonacci, che sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Samuele Landi invece ha visto scendere di un anno la pena da 9 a 8 anni. Per gli altri infine è stata confermata la stangata inflitta dal Tribunale di Arezzo in primo grado. Il PM del processo d'appello aveva chiesto la conferma totale della sentenza di primo grado, numerosi capi di imputazione per gli otto, tra questi anche il reato di bancarotta.